Allora sono qua, io ho il mio telefono che è con Iliad, ok? Difatti ho l'email noreplayiliad.it Ciao, la tua offerta Iliad per la linea tal dei tali non è stata rinnovata perché il credito residuo non è sufficiente o perché la carta di pagamento utilizzata durante la sottoscrizione non accetta l'addebito messile automatico, ok? Ok, ricarica la tua sim per poter usufruire nuovamente la tua offerta mensile e evitare che le chiamate, gli sms, gli mms, il traffico dati ti siano debitati a consumo come indicato nella brucia di prezzi, ok? Vai nella tua area personale su Iliad e ricarica, ok? Però il problema è che se io vado sulla mia Iliad personale, io devo pagare non so se 6 euro, 5,99 e così via ma io vado sulla mia, clicco qui e io credito, non debito, credito di 20 euro, punto 21 Eh, allora, i soldi ci sono, adesso cosa fai? Mi vai a debitare ma i soldi ci sono? Eh, scusa eh, Iliad, sì più corretta, ci vediamo alla prossima, arrivederci, perché non è la prima volta che succede sta roba qua non è la prima volta, ci vediamo